Ciao bambini, ecco qua che continuiamo la nostra lezione d'inglese, no? Siamo rimasti qui dove diceva A parrot is a tropical bird abbiamo controllato, riguardate e adesso sentiamo l'audio per controllare It can climb trees with the claws on its feet Ok, that's good Now we do exercise number 15 Complete, listen and check Ok? Ok, sentiamo l'audio Anche qui cosa abbiamo? Abbiamo delle parole Walk, camminare Mouth, bocca Teat, denti Swim, nuotare Legs, gambe Ok, listen Unit 3, page 45 Exercise 15 Complete Listen and check A whale is a big mammal It has got a big mouth with a lot of teeth It hasn't got legs In fact, it can't walk It can swim in the sea Ok, di chi sta parlando? Whale What is whale? Balena A whale is a big mammal La balena è un grosso mammifero Yes, yes It has got a big mouth with a lot of teeth It has got a big mouth with a lot of teeth It hasn't got legs It hasn't got legs In fact, it can't walk Cioè, non può camminare Cioè, non può camminare It can swim Può nuotare in the sea Ok, adesso io lo faccio qui sopra E voi, come sempre, lo fate sul vostro libro Ok A whale is a big mammal Ma che cos'è che può fare? Swim in the sea Check Oh, adesso verifichiamo se abbiamo fatto giusto E voi controllate A whale is a big mammal It has got a big mouth with a lot of teeth It hasn't got legs In fact, it can't walk It can swim in the sea Oh, yes, very good Very, very good Ok Ok Now, Calvin's grammar Ok Adesso We listen and read the dialogue Are you ready? Listen And read Unit 3 Page 46 Exercise 16 Listen and read Look! A spider! Is it an insect? No, it isn't Spiders have got eight legs So they can run fast Can they swim? Yes, they can Really? I can't swim at all Ok Di cosa sta parlando? Stanno facendo delle domande sugli animali, bambini Ok? Quindi cos'è che dice Guarda Look, a spider Is it an insect? È un insetto? No It isn't No, non è un insetto Spiders have got eight legs I ragni hanno otto zampe So they can run fast Così loro possono correre veloci Poi chiede Can they swim? Sanno nuotare? E lui risponde Yes, they can Sì, loro sanno nuotare Really? Veramente? I can't swim at all Io invece non so nuotare alla fine, no? Non so nuotare io ragno? Sì? Allora Dobbiamo imparare a guardare gli articoli indefiniti Ok? Cosa sono gli articoli indefiniti? Sono come gli articoli indeterminativi Di italiano E N Ok? Uno Sono gli articoli indeterminativi in inglese Ok? Proviamo a fare l'esercizio 17 Complete with A or N Ma prima di fare questo Leggiamo un attimino le TIP Con il nostro Calvin Grammar E Si usa con parole che cominciano con la consonante Mentre N Si usa con parole che cominciano con vocale Proviamo a fare questo esercizio Io lo faccio qui sopra insieme a voi Voi lo fate sopra il libro Hippo Complete with A or N Ok Hippo Con che lettera inizia? Ippopotamo Con una consonante Giusto? Quindi È Hippo Giusto? Ok Vuol dire un ippopotamo Continuous Italian boy Con cosa inizia Italian boy? Con i Che è una Che è una vocale Ok? So A o N N N Italian boy Un ragazzo italiano Check Ok Continuous Number 3 Lion Leone Con che lettera inizia? Con la L Che è Una consonante So A lion Un Leone Yes Continuous Number 4 British girl E British girl Una ragazza Inglese Perché inizia con la Consonante Yes Continuous Animal Animal inizia con una Vocale Quindi An animal Yes That's good Very good Ok Per favore Per favore Ricopiate Sul quaderno Questo Cioè Scrivete Indefinitive article E N E ricopiate Questo T I P Con questo quadratino Lo ricopiate sul quaderno azzurro Stessa cosa Definitive article Cioè articoli definiti D Che in italiano Che in italiano sono gli articoli Determinativi Il Lo La Le Ok Vediamo quando si usa però De si usa per persone o cose uniche The queen is old La regina è vecchia The sun is hot Il sole è caldo Per cose specifiche Cioè I like the park near my school Mi piace il parco vicino alla mia scuola Proprio quel parco lì mi piace Ok De non si usa per nomi generici Cioè non dobbiamo mettere I like the lions No I like lions Perché è generico lions Per nomi propri di città e stati Quindi Rome is in Italy Ok Quindi non dobbiamo mettere The Rome is in Italy Sarebbe La Roma è Nella Italia È sbagliato vero? Quindi dobbiamo mettere Roma È In Italia Ci sono solo due eccezioni The UK And The USA Ora detto questo Bambini Che è da studiare E anche questo me lo ricopiate Per favore Sul quaderno azzurro Perché così avete lo specchietto E ricopiandolo Vi rimane impresso Fate questo Definitive article D E ricopiate questo qua Allora io adesso faccio l'esercizio Qua sopra E voi Lo fate sul libro Ok Giraffes Are tall and thin Ci vuole il D O no? Non ci vuole perché È solo una cosa specifica Il D Ok? Non ci vuole l'articolo Giraffes È plurale Continuous Cat in my house Can't run fast Il gatto Nella mia casa Non può correre veloce D Il gatto Proprio quel gatto lì In casa mia Dovrebbe essere questo Esatto Continuous Dolphins can swim Ci va l'articolo No Perché Dolphins È Plurale Ok So The king Of Spain Is from Madrid Il re Proprio quel re lì Della Spagna Di Spagna Viene da Madrid Ok? Qui perché Si rivolge A una persona specifica Il re Ok? E qui invece Non ci va perché È di fronte agli stati Non ci va The Ok Elephants Have got Ci va qui? No Perché Elephants È plurale Gli elefanti Hanno The big ears Hanno le orecchie Grandi No Anche qui Ho sbagliato a cliccare No Perché Sono Plurali D'accordo? Ok Molto Molto Bene Very good Now Quanto manca? 12 minuti 12 minuti Io direi Che ci dobbiamo Fermare Qui Bambini Allora Io vorrei Che voi Faceste Questi Esercizi Andate A pagina 50 Del workbook Esattamente Vi fate L'esercizio 1 E 2 Ok? Quindi Qui trova i nomi degli animali e colora le caselle di giallo Vedete Snake E qui avete tutti i nomi Ora colora di verde le lettere rimaste e riscrivili in ordine per trovare la domanda misteriosa E anche la risposta L'esercizio 2 Abbina gli animali alle loro parti del corpo Vedete Elephant Trunk Parrot E andiamo avanti Così E poi mi fate anche Oltre all'1 Il 2 Anche il 3 E il 4 Il 3 mi dovete mettere Se è true o false E correggere la frase falsa Cioè A giraffe Is Small True o false La giraffa è piccola Force A giraffe isn't small A giraffe is big E invece qui mi dovete osservare completa Vedete The lion has got a long tail Ok? Questi esercizi bambini Me li fate E poi li correggiamo insieme Me li dovete però mandare completi Per favore Vi dico quando Così lo sapete Me li dovete mandare Giovedì Entro giovedì 9 aprile Entro giovedì 9 aprile Mi dovete mandare Esercizio 1 2 3 4 Del workbook Le foto D'accordo? Un bacio grandissimo Bambini E a prestissimo Tattaretto Tettora